stiamo tornando da Hyde Park e tutte le metropolitane sono chiuse per questo siamo sull'autobus 27 per Paddington speriamo di arrivare a casa perché abbiamo veramente fame è tutto chiuso noi non lo sapevamo quindi stiamo cercando di tornare a casa non si sa così non sappiamo dove siamo là c'è scritto bus stop in Kensington è un'ora che siamo a Kensington stiamo forse girando intorno in tondo in tondo c'è gambe a pezzi i patini i gambe a pezzi ci siamo fatti una bella pattinata sul ghiaccio Hyde Park con la Cristina che è caduta ma Andrea mi ha sono spiaccicato tutto sul terra e niente speriamo di arrivare a casa a mangiare nessuno tutto vuoto sono solo noi in giro il 26 dicembre infatti è tutto chiuso ciao a tutti